Allora vediamo l'obiettivo di fare una faccia tipo l'isola di Pasqua quindi andiamo sicuramente in Blender ci cominciamo a produrre lo sfondo con questa faccia quindi andiamo in Add, andiamo in Image e gli mettiamo una reference e la reference gli mettiamo sicuramente questa faccia qua questa reference che adesso è messa in sbagliata quindi la cancelliamo un attimo e la rimettiamo dopo aver fatto uno, Front Orthographic e rimettiamo sicuramente la reference in modo tale che sia a questo punto allineata a questa immagine di questa cosa qua, clicchiamo qua facciamo l'X-Ray, che sarebbe anche Alt-Z quindi X-Ray e vediamo quindi lo sfondo che c'è dietro selezioniamo il nostro cubo, che è questo questo qui è il cubo vedete che il cubo è selezionato ed è grosso lo facciamo S-Y per renderlo un pochino meno cuboso per rendere una testa quella che vogliamo sempre di fronte lo spostiamo in modo tale da essere più o meno S-Z delle dimensioni della testa e poi facciamo S-X in questo caso per stringerlo per farlo più o meno della dimensione del nostro oggetto ok? ora ce l'abbiamo più o meno come ci interessa però dobbiamo poi restringerlo in modo tale da quindi vediamo ancora GX ok allineiamo solo leggermente poi voi magari farete anche di meglio e questo cubo adesso prendiamo un'altra Z cioè togliamo il togliamo il questo senso cerchiamo solo di aggiungere un po' di di suddivisioni quindi per farlo facciamo andiamo in Edit Mode facciamo CTRL-R e poi con la rotellina aggiungiamo e aggiungiamo un totdivisioni per esempio in questo caso viene aggiunto alcune giusto per riuscire a seguire il tasto sinistro più invio e quindi sono fisse facciamo di nuovo al Z che però in questo caso abbiamo visto che al Z non funziona e quindi andiamo qui ecco vedete che ce l'abbiamo allineato qua sopra quindi cosa facciamo? ci avviciniamo siamo in Edit Mode selezioniamo sicuramente Alt A per deselezionare tutto facciamo Alt e Shift per selezionare tutta la parte di sopra no? e questa parte di sopra magari un 1 facciamo S X direi per stringerla fino ad arrivare praticamente a più o meno la cima non so se la vedete per avere la cima la cima e poi facciamo GZ la avviciniamo dobbiamo selezionarla tutta quindi forse ci conviene fare col B B selezioniamo S X stringiamo tutto G Z lo avviciniamo poi Alt A facciamo B selezioniamo quest'altro pezzo lo spostiamo Z più in alto S lo stringiamo un po' in realtà cerchiamo di rendere questa testa facciamo ancora la stessa cosa per questo G Z lo spostiamo ancora più in alto S X lo stringiamo così ecco quindi man mano cerchiamo di produrre questa la forma della testa quindi questo magari lo alziamo ancora un po' quindi facciamo B di questo G Z S X ok e quindi di qua più o meno è fatta la facciamo Alt A facciamo la parte di sotto per fare il mento quindi facciamo S lo stringiamo Alt A B questo facciamo S lo stringiamo un po' Alt A e poi prendiamo magari questa parte qua e lo facciamo G per spostarla qua e poi rimangono ancora queste cose qua da mettere a punto quindi facciamo Alt A B prendiamo questo G lo spostiamo Alt A B prendiamo questo G lo spostiamo qua e poi direi che c'è ancora questo forse da spostarlo ok più o meno così abbiamo inseguito la forma della della testa che tra l'altro vedete che ce l'ha più o meno fatta in maniera corretta l'unica cosa che è un po' sbagliata è forse questa faccia che sta in alto quindi selezioniamo la faccia questa e facciamo l'S Y ok in modo di raddrizzarla e quindi abbiamo il nostro SY ok abbiamo più o meno fatto il nostro oggetto poi allimente gli applichiamo anche un piccolo smooth e comunque questa cosa qua vedete che segue la faccia volendo possiamo ancora renderla un pochino più morbida mettendo un modificatore subsurf quindi possiamo andare qua facciamo add modifier e subsurf vedete che quindi la rende un pochino più cilindrica e quando è così praticamente se la vediamo in dobbiamo magari fare S S X per renderla un pochino più magari selezionola tutti S X ok la facciamo un pochino più panciuta in maniera tale da seguire un po' più fedelmente il nostro oggetto ok una volta che l'abbiamo costruita questa cosa quindi eventualmente applichiamo il modificatore quindi andiamo in object mode facciamo apply ok togliamo il cosa quindi vedete che abbiamo fatto questa specie di cilindro che segue la nostra testa e a questo punto applichiamo la texture quindi la texture applicata qua la significa andare in UV editing qui andiamo in 1 provo a darla frontalmente e qui facciamo l'unwrap di project from view vedete che viene la testolina fatta così ci scegliamo l'immagine da cui siamo partiti che è questa selezioniamo tutto adesso la portiamo in alto e visto che l'abbiamo modellata in modo tale che sia esattamente identica la mettiamo più o meno al centro facciamo sx per allargarla s y che sarebbe l'alto per allungarla e quindi abbiamo la testa che segue abbastanza fedelmente il nostro cilindro non la vediamo se vediamo qua non vediamo questa testa perché dobbiamo mettere il materiale quindi andiamo nei materiali c'è già un materiale nel materiale dobbiamo specificargli di usare questa texture quindi clicchiamo qua sul giallo andiamo su image texture e qua selezioniamo l'immagine di partenza e vedete che a questo punto abbiamo effettivamente il nostro il nostro cilindro con l'immagine sia frontalmente che sul retro ora in realtà sul retro probabilmente bisognerà cambiare la texture ma per questo piccolo video direi che è già sufficiente a questo punto quello che rimane da fare e seguite un po' le istruzioni che vi ha dato che vi ha dato Eva sarà poi quello di andare in sculpting e usare di pennelli per infossare gli occhi e per produrre la bocca e a quel punto avete una faccia in questo caso bifronte dell'isola di Pasqua di fronte oppure poi magari con le spennellature potete anche provare a cambiare texture ma questo è un altro discorso ora direi che per questo video è tutto e quindi noi abbiamo fatto l'isola di Pasqua che tra l'altro anche senza sculpting potrebbe già essere utilizzata come una specie di ultra low poly in alcune scene quindi chiaramente per avere poi tutta l'isola dovete eventualmente fare anche sempre con più o meno dei cilindri anche le altre parti del corpo però questa tecnica è sostanzialmente quella usata per partire da un'immagine e ricostruire degli animali o delle persone partendo da delle foto allora è tutto